ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahpowered quindi prima di fare grazie si fa in triano e si si ma facciamo ci aiutare a ma magari si può si ci puoi aiutare non devi fare nulla vieni qui qua eh allora noi entriamo facciamo l'invito facciamo l'inizio guarda che nel medioevo era così uno cerca di ricostruire l'ambiente storico comunque quando vuole durante lo spettacolo andiamo avanti io metto paura sapete perché metto paura sapete così quando credo non è possibile la re non può cagliare bene, finito andiamo avanti a casa 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 madonna e messerio allora i miei cartelli medievali c'era lei con tre volte eri 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 allora dato che di storia poco e niente vi aiuterò io faccio lei che diceva voi madonna e messerio eri 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 ma i miei cari l'accento e guerra vado sisi e l'accento e e io faccio la musica questa è la nostra aiutante è bisogno di sottolineare e già qui se vuoi faccio qualcosa anche io stai dietro un po' di scenografia stai dietro 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 con le mani in tasca ti fai male tempo, quando è in alto vai, tutti insieme tempo, quando è in alto faccio le due palline con un piede qua e le tre palline in stasera grazie, grazie, vado un po' vai! grazie 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 Vieni hai vinto un regalo Vieni hai vinto un regalo Ecco fa un regalo dal migliore Bene applauso Andiamo via? Andiamo via? Noo Volete più pericoloso? Sii Bambini e bambini Ma ci mandi giù lo spettacolo Difficile Ma io non sapevo nulla Guardate che difficile Prendi il fuoco A questa età prendono che è una meraviglia Più pericoloso Prendi il fuoco Madonna e messia Leone lo chiamano Ieri ieri Ti volete più pericoloso? Pericoloso Ah Più pericoloso Grazie.